Quando la Chiesa, e possiamo aggiungere la teologia, abbandona gli schemi rigidi e si apre a un ascolto disponibile e attento dei giovani, questa empatia l'arricchisce perché consente ai giovani di donare alla comunità il proprio apporto, aiutandolo a cogliere sensibilità nuove e a porsi domande inebili. Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Se la Chiesa è attenta ai giovani si arricchisce, ma è davvero così, si sta arricchendo in questo tempo la Chiesa. Ne parliamo con due persone esperte di giovani, a cominciare da Sulla Alessandra Smerilli, esperta prima di tutto perché è Salesiana e oggi è San Giovanni Bosco, evviva! E poi perché è reduce dal sinodo dei giovani dove è stata uditrice, insegna all'Università Economia all'Auxilium, insomma tanti motivi per essere esperta di giovani, gli stessi in fondo che ha Don Sergio Massironi, rettore del collegio Arcivescovile Villoresi di Monza e lui è esperto anche dei bambini perché questo collegio che ospita 1.600 studenti parte dal nido e arriva fino all'esame di maturità. E allora, Sulla Alessandra, dal tuo punto di vista questa stagione di rinnovata attenzione perché poi, appunto, citavamo San Giovanni Bosco e siamo arrivati fino al sinodo di due anni fa, è un'attenzione costante e rinnovata in questa stagione. Sta dando qualche frutto in termini di arricchimento, come dice il Papa? A mio parere sì, io penso che sia una stagione molto feconda perché nella misura in cui prendiamo in seria considerazione le parole di Papa Francesco sui giovani e sul fatto che i giovani sono l'adesso di Dio e sono una parola di Dio per noi, comprendiamo quanto non si tratti semplicemente di fare un po' di spazio o di metterli al centro, perché non è questo, è di costruire insieme dei processi dove giovani e adulti... E tra l'altro, scusami, che oggi il Papa ha detto che anche gli anziani sono l'adesso di Dio e della Chiesa, ha detto anzi il futuro, ma questo ci arriviamo tra pochissimo, restiamo un attimo sui giovani. E quindi se facciamo questo cammino insieme, ci apriamo a cose nuove, i giovani sono più vicini ad altri giovani e quindi possono diventare loro testimoni ed evangelizzatori di altri giovani che magari noi non riusciamo a raggiungere, perché forse a volte parliamo anche un linguaggio diverso, ma non è solo una questione di linguaggio, è proprio un essere sulla stessa linea lunghezza d'onda e quindi questo a mio parere può permettere una fioritura nuova di trasmissione, di evangelizzazione per tutti, perché tutti abbiamo costantemente bisogno di essere evangelizzati. Ma questo non sta succedendo già qualcosina, qualche segnale, cioè nel senso c'è stato un contributo, e se sì però mi devi dire pure quale, in termini, il Papa dice di sensibilità nuove, di domande inedite in questa stagione. Beh io credo che i giovani ci costringano a vedere che il mondo attorno a noi è cambiato e quindi lavorare con loro, vivere con loro permette alla Chiesa di rendersi conto e di riconoscere con coraggio, con onestà, che attorno a lei, soprattutto nel continente europeo, nei paesi nel nord del mondo, il cristianesimo non è più un fatto ovvio, un fatto consolidato che ci viene semplicemente dalla tradizione, ma i giovani vivono normalmente in contesti in cui essere cristiano è diventato una stranezza, motivo di interrogazione, di domanda, problema in mezzo ai loro amici, negli studi che fanno sui luoghi di lavoro. Questo capita evidentemente anche agli adulti, ma per i giovani potremmo dire che è l'habitat naturale. Questo sfida la Chiesa a dialogare e a proporre il Vangelo nel mondo in un modo completamente diverso da prima, non dando più per presupposto il suo essere riconosciuta come portatrice di qualche cosa di vero, di buono, di credibile. E questo poi in concreto su quali aspetti, secondo te, sull'Alessandra, l'hai visto realizzato? Cioè questo vivere la tua missione, la tua vocazione in un contesto cambiato, di cui ti hanno avvertito in qualche modo i giovani, che cosa di nuovo ti ha fatto fare? Ma mi ha fatto mettere seriamente in discussione, sia nell'esperienza dell'insegnamento, perché insegnare ed avere sempre giovani di vent'anni davanti con cui interagire ti fa capire quanto il mondo cambi e come per poter raggiungerli c'è bisogno di in qualche modo sintonizzarsi, che non vuol dire giovanilismo, vuol dire però, in questo Don Bosco che oggi festeggiamo c'è un po' un maestro, trovare quella corda sensibile, ma per trovarla dobbiamo riuscire a connetterci. E questo ti fa capire, ma lo vedo le mie prime esperienze in cui, non immaginandolo, mi sono trovata davanti, per esempio, a studenti omosessuali che si interrogavano e mi dicevano ma quanto è cattivo Dio, perché ha voluto che a me, per esempio, piacessero altri uomini. Di fronte a queste cose tu non sei davanti a dei principi, sei davanti ad un'esperienza reale e con queste persone cominci a dialogare e ti rendi conto che c'è un mondo che ha bisogno di persone che con umiltà, nel sinodo è stato detto, con umiltà e empatia iniziano dei dialoghi e vengono fuori dei mondi che ti fanno comprendere anche quanti drammi i giovani si portano dentro e questo fa comprendere anche quanto ci sia bisogno di stare accanto e piano piano, piano piano, si fanno anche dei bei cammini. Il Papa, anzi, tutte le volte che viaggia, incontra i giovani a proposito di stare accanto. Andiamo a vedere uno di questi incontri, in particolare dello scorso anno, quando Francesco ha individuato anche due punti nevralgici, due proposte, la capacità di sognare e la capacità di farlo insieme, il sogno. Sentiamo. Uno dei principali problemi di oggi è di tanti giovani che hanno perso la capacità di sognare. Né molto né poco. Non sognano. E quando una persona non sogna, quando un giovane non sogna, questo spazio viene occupato dal lamento o dalla resignazione o dalla tristezza. I sogni aiutano a mantenere viva la certezza di sapere che un altro mondo è possibile e che siamo chiamati a coinvolgerci in esso e a farne parte col nostro lavoro, col nostro impegno e la nostra azione. Come è importante sognare insieme. Come fate oggi, qui, tutti uniti, senza barriere. Per favore, sognate insieme, non da soli. Sognate con gli altri, mai contro gli altri. Sognare con gli altri, mai contro gli altri. Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c'è. Insieme costruiscono i sogni. A proposito dei cambiamenti, una volta il sogno e la capacità di stare insieme erano elementi che uno agganciava in maniera abbastanza naturale al mondo giovanile. Oggi forse siamo invece schiacciati da un realismo esasperato e da un individualismo ancora più forte e questi diventano delle sfide, degli obiettivi per i giovani anche, non solo per noi. Certo. Gli input sono sempre di più. Viviamo in un mondo che è estremamente stimolante, che dà un sacco di possibilità e questa cosa calamita evidentemente tutta l'attenzione, chiede un sacco di energia. È molto faticosa da sostenere per il bambino e poi per il ragazzo, l'adolescente, il giovane. Contemporaneamente è come se disintegrasse il passato, non c'è quasi più il tempo e mancano a volte anche i contesti che consegnano questa profondità del tempo che quasi naturalmente proietterebbe sul futuro. E in questo quadro io credo che sia proprio l'incontro. Quando avviene che si incontri un testimone, una persona che con una diversa età, molto spesso, pone delle domande, rappresenta il nuovo, rompe l'orizzonte delle cose in cui si è schiacciati ogni giorno, si inizia a intravedere appunto questa profondità del tempo che rimette insieme i pezzi di una storia e lascia guardare avanti sentendo che il domani è una possibilità. E questo sforzo di dialogare, di cercare insieme una profondità, voi l'avete fatto insieme, lavorando con i giovani per i giovani. Viene uscito un libro che si chiama L'Adesso di Dio, i giovani e il cambiamento della Chiesa. E dialogate tra l'altro individuando alcune sfide per i giovani. Me ne dici a qualcuna e perché secondo te oggi sono centrali queste sfide? Una di queste sfide è quella proprio della prova della contemporaneità dove sembra che l'idea di Dio sia tra virgolette fuori luogo. Racconto un episodio nel libro sul quale poi abbiamo riflettuto insieme. Mi trovavo in un taxi a Parigi alle 4 del mattino, comincia un dialogo con il tassista, io ero vestita con l'abito, che mi chiede ma cosa fa? Io ho cominciato a parlare di economia pensando che il resto fosse evidente. Dopo un po' mi chiede ma lei ha marito, ha figli? E io lo guardo e dico ma non si vede che sono una suora? Dico sono una suora e lui allora, e io ancora più sconvolta, dice ma da quanto tempo è suora? 20 anni. E 20 anni non ha mai avuto marito, non ha mai avuto figli? Dico ma insomma. E io ho continuato a riflettere, poi con Don Sergio ci siamo confrontati e io ho pensato ma pensa, forse siamo come nella condizione dei primi cristiani dove bisogna dare un annuncio di qualcosa che non è leggibile. Sai che a me è successo con un mio amico barbiere che a un certo punto ha scoperto che andavo a messa la domenica e mi ha iniziato a guardare strano, poi alla fine ha confessato che era la prima persona che conosceva che andava a messa la domenica. Esatto, e quindi confrontandoci da una parte lui mi dice ma guarda io conosco i preadolescenti, queste domande i preadolescenti in Italia le fanno, quindi non siamo tanto lontani da quel momento e da quel contesto e dall'altra ci siamo detti condizioni dei primi cristiani ma con una differenza che allora tutto era una novità. Oggi abbiamo anche l'onere della prova, cioè da dimostrare che quello che diciamo non è un qualcosa di sorpassato. Non è una follia diciamo. Non è una follia, non è un qualcosa di sorpassato. Però penso che questa sia una sfida appunto, è molto sfidante, ma che ci dà una grandissima opportunità di annunciare, di comprendere che dobbiamo farlo forse in un modo nuovo. Tu sai che la gente a casa si sta domandando che ci facevi tu alle 4 del mattino sul taxi e che ci facevo io dal barbiere. Però questo non glielo diciamo. Chiediamo invece a Sergio, a Don Sergio, qual è per te, dimmi anche tu una sfida. Poi dobbiamo parlare di anziani però. Una delle più grandi sfide chiaramente è di quelle che rende quasi automatica la distanza tra i giovani e la chiesa, come se non si potesse nemmeno nominare, come se la partita fosse già chiusa, è sicuramente quella affettiva che riguarda tutto il mondo della sessualità in un contesto in cui i ragazzi iniziano estremamente presto a fare esperienze di un'affettività e un'emotività che è scossa da tutto quello che arriva a loro incontro e che arrivano a un certo punto, spesso verso la maggiore età, a avere bisogno di rimettere insieme esperienze che hanno lasciato una traccia, a volte anche qualche ferita. Sembra quasi impossibile poter trovare nella chiesa degli amici e degli educatori, dei testimoni che possano aiutare in maniera schietta, libera, senza giudizi duri, violenti, preimpostati a rielaborare tutto questo e a trovare una direzione. Questo ci costringe a cambiare perché ci invita a non vivere la proposta morale, la proposta di una vita cristiana autentica come qualcosa di castrante, come qualcosa dentro la quale essere imbrigliati, ma come qualcosa che guarisce addirittura le ferite, riporta ordine nella vita, dà la possibilità di vivere con armonia e con più spessore, più profondità, con una maggiore durata, esperienze che magari in un primo momento hanno semplicemente travolto. In queste sfide tutte e due avete individuato l'importanza di un dialogo con gli adulti. Il Papa oggi ha incontrato gli anziani partecipanti al Congresso internazionale di pastorale degli anziami sul tema la ricchezza degli anni e ha detto, quello che avevo già un po' anticipato prima, gli anziani sono il presente e fin qui, ma anche il futuro. Sentiamo un po' che cosa ha detto Francesco. Oggi vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa. Sì, sono anche il futuro di una Chiesa che insieme ai giovani profetizza e sogna. Al giorno d'oggi, nelle società secolarizzanti di molti Paesi, le attuali generazioni di genitori non hanno per lo più quella formazione cristiana e quella fede viva che invece i nonni possono trasmettere ai loro nipoti. Sono loro l'annello indispensabile per educare la fede ai piccoli e ai giovani. Abbiamo giocato con i titoli, prima attenti ai giovani e attenti agli anziani, con l'ambiguità che ci può essere evidentemente in questa fase. La cosa che voglio capire, il Papa qui segnala tra l'altro il tema della trasmissione della fede. C'è il rischio, mi pare, che noi identifichiamo questa cosa soltanto con il nonno, soprattutto la nonna che insegna le preghiere al nipote quando è bambino. Voi mi avete parlato di qualcosa di più complicato, lo sappiamo, le preghiere vengono insegnate tante volte dalla nonna, soprattutto, ma poi si riesce a continuare qualche rapporto anche con una generazione non soltanto anziana. Cioè questa trasmissione della fede non è solo questo primo passaggio importantissimo. Sicuramente. Da una parte io credo che siamo di fronte a una generazione di giovani che non rifiuta gli adulti e gli anziani, che non rifiuta il confronto, anzi lo cerca nella misura in cui è veramente un confronto. E l'esperienza degli anziani, quindi non solo le preghiere, ma esperienze di vita vissuta e in qualche modo accumulata diventano molto importanti per i giovani. E il fatto che gli anziani sappiano avere visioni anche di futuro diventano il futuro perché riescono ad incoraggiare i giovani. Prima si parlava di sogni. Se in un mondo dove gli anziani non sognano, questo sogno viene tarpato anche per i giovani. Noi adesso abbiamo l'esperienza di Economio Francesco. Questa convocazione che un anziano, Papa Francesco, ha fatto ad Assisi a fine marzo per giovani economisti. La risposta è stata grandissima. E stiamo preparando tutto questo momento che sarà ad Assisi come adulti, come alla festa di compleanno. Noi stiamo cercando di preparare tutto quello che serve, ma per fare in modo che siano i giovani a tirar fuori le loro idee. Lo stiamo facendo insieme ai giovani. E vediamo che c'è un gioco bellissimo tra giovani, adulti e anche anziani che saranno lì presenti ad Assisi e che stanno aiutando in questo momento. Che si cercano l'un l'altro e si vede quanto può essere fecondo questo scambio se però noi adulti riusciamo al momento opportuno a fare quel passo indietro, a non occupare tutta la scena. Io credo sia proprio così e molte volte nelle nostre comunità avviene proprio questo non fare un passo indietro. Ho vissuto a lungo l'esperienza della pastorale giovanile dentro gli oratori. Molto spesso purtroppo, mi capita adesso anche girando, incontrando altre esperienze, le nostre comunità costituiscono una barriera. Per cui ci sono anziani e anziani, ci sono anziani sorprendenti e i giovani hanno un sesto senso per stabilire una comunicazione con loro. Ci sono a volte anziani che vedono i giovani come un pericolo e con cui non scatta questa comunicazione proprio perché rappresentano in qualche modo quello che forse loro non sono stati o non sono più e costituiscono quasi un elemento di disordine. I giovani sono l'adesso di Dio perché sono una sorpresa e quasi l'irruzione di Dio con la sua novità nella nostra vita. Molto spesso anche l'anziano può diventare l'adesso di Dio perché con la sua fragilità ma anche con la sua esperienza, soprattutto quando è onesta e non è un'esperienza che si impone come giudicante ma è un'esperienza che viene comunicata anche nel suo mettersi in discussione, nel suo prendersi cura dell'altro, diventano l'irruzione di qualche cosa di nuovo. C'è una relazione gratuita, una cura vera, il desiderio di trasmettere qualche cosa lasciando all'altro spazio di essere se stesso, di essere una persona diversa e nuova. Prima avete parlato delle questioni morali come un possibile punto di frattura tra giovani e anziani. Il Papa ha parlato in un certo senso anche di questo tema oggi nella Messa di Santa Marta, ha parlato soprattutto della coscienza del peccato, l'ha fatto a partire dalla prima lettura, la vicenda di Re Davide, adultero, in qualche modo assassino e pure santo e ci ha rimandato alla nostra coscienza del peccato. Visto che persino un santo, dice Francesco, come Re Davide l'ha perduta e come l'ha perduta. Sentiamo Francesco. Ma come il grande Davide, che è santo, che aveva fatto tante cose buone, che l'ha tanto unito a Dio, è stato capace di fare quello. Questo non si fa di un giorno all'altro. Il grande Davide lentamente è scivolato, lentamente. Ci sono dei peccati, dei momenti, peccato di ira, un insulto che io non posso controllare, ma ci sono dei peccati nel quale si scivola lentamente con lo spirito della mondanità e lo spirito del mondo che ti porta a fare queste cose come fossero normali. un assassino. Ma è gente buona, sembra che fa questo, che va messa tutte le domeniche, che si dice, cristiano, ma come mai tu fai questo? E altri peccati, dico soltanto questo. E' perché sei scivolato a uno stato dove hai perso la coscienza del peccato. E questo è uno dei mali di nostro tempo. Pietro XII lo aveva detto. Perdere la coscienza del peccato. Ma si può fare tutto. E alla fine si fa via una vita per risolvere un problema. Pensiamo un po'. Qual è l'atmosfera spirituale della mia vita? Sono attento. Ho bisogno sempre di qualcuno che mi dica la verità o no? Credo di no. Ascolto il rimprovero di qualche amico, del confessore, del marito, della moglie, dei figli, che mi aiuta un po'. Guardando questa storia di Davide, del santo re Davide, chiediamoci se un santo è stato capace di cadere così. Ma stiamo attenti, fratelli e sorelle. Anche a noi può accadere. Anche domandiamoci, io in quale atmosfera vivo? Che il Signore ci dia la grazia? Di sempre inviarci un profeta. Può essere il vicino, il figlio, la mamma, il papà, che ci schiaffi un po' quando stiamo scivolando in questa atmosfera dove sembra che tutto è lecito. Insomma, tutti, persino i santi, possono non avere, perdere la coscienza del peccato e l'atmosfera in cui tutto sembra lecito è quella in cui evidentemente viviamo. Ma in che senso, Don Sergio, e se i giovani, il contatto con loro ti ha dato una diversa coscienza del peccato, una sensibilità anche diversa rispetto a diverse questioni che hanno a che fare con il peccato, con la morale? Io credo che proprio in questo si colga perfettamente quanto sia cambiato il mondo rispetto al mondo di Pio XII e a volte dei nostri anziani dove la coscienza del peccato era probabilmente la sensazione di poter perdere la grazia di Dio e quindi uscire da un orizzonte normale che era quello dell'essere nella grazia di Dio, del conoscere la sua legge, del praticarla, del viverla e quindi che potesse rompersi questa armonia, quest'ordine. Oggi credo che avvenga normalmente a rovescio tutto questo in una maniera però molto più simile a quello che la Bibbia racconta quando racconta vicende come quelle di Davide cioè la coscienza del peccato matura quando ti accorgi di essere amato e di essere raggiunto in qualche cosa che proprio perché è amato, proprio perché è raccolto nella gravità di quello che hai fatto cogli finalmente nelle sue dimensioni, nella sua malvagità, nella sua drammaticità. Quando questo avviene... Cioè tu la coscienza del peccato mi stai dicendo che ce l'hai e la faccio con un'immagine termica non quando hai freddo ma quando hai caldo in un certo senso. Esattamente. La coscienza del peccato è esattamente quando il tuo cuore si spezza ma perché ti si sentirono trafiggere il cuore, dicono gli atti degli apostoli, rispetto al giorno di Pentecoste. Cioè mi raggiunge una tale bontà e una tale bellezza da rendermi conto che tutto quello che c'è stato prima era molto di meno ed era una perdita di vista di chi ero e dell'essenziale. Allora matura una nuova coscienza di me e della realtà. Dottor Alessandra, la stessa domanda. Sono ovviamente d'accordo perché l'esperienza che faccio ma non è solo l'esperienza con i giovani. Credo che ognuno di noi se si guarda dentro almeno per me i miei scatti li ho avuti proprio quando mi sono resa conto che magari stavo andando su una strada sbagliata e mi sono sentita raggiungere comunque dall'amore di Dio, dalla misericordia di Dio. Quindi più l'amore che il rimprovero può. Esattamente. E questo è un consiglio anche per gli anziani. E questo non è una forma di lassismo. Non è che adesso va tutto bene e quindi era tutto sbagliato prima. Forse semplicemente in condizioni diverse, in condizioni nuove si arriva a capire che anche le esperienze che sono diverse da una via sempre diritta ma chi ha mai avuto una vita sempre diritta, senza sbandature sono esperienze nelle quali il Signore ci viene a trovare e ci fa maturare che continuamente la grazia trasforma in opportunità. Grazie Don Sergio, grazie Suor Alessandro e viva San Giovanni Bocco. Noi ci rivediamo lunedì alle 17.30, adesso il Rosario in diretta da Lourde. Buona serata e buona domenica. La Madonna ci aiuta a seguire con fede e amore Gesù che adoriamo nell'Eucaristia.